Fa molto discutere l'idea del governo sul tema degli accorpamenti delle scuole secondo la legge di bilancio approvata a fine 2022 gli istituti sotto i 600 alunni, 400 per le zone di montagna e disagiate sarebbero sottodimensionati e per questo andrebbero incontro ad accorpamenti circa 30 le scuole in Toscana che hanno queste caratteristiche. Direi che l'aspetto dominante è quello del risparmio economico e anche da questo punto di vista noi cosa possiamo dire? Che se i soldi risparmiati vengono reinvestiti, riutilizzati nell'ambito delle scuole la cosa è condivisibile, laddove si puntasse al risparmio per il risparmio e addirittura anche a dei tagli semplici e basta la cosa sarebbe direi decisamente discutibile. Non è tanto la dimensione delle scuole che deve spaventare o costituire un problema se la nuova dimensione fosse accompagnata da una revisione profonda della vita delle scuole stesse, della governance, degli organi collegiali la cosa diventerebbe dal mio punto di vista molto più accettabile. Non si dimentichi che esistono in Italia regioni che rispetto al dimensionamento si sono comportate in maniera molto diversa, per esempio molte regioni meridionali il dimensionamento l'hanno fatto parzialmente o non l'hanno fatto per nulla. Un conto è governare una scuola con 600 alunni, un conto è governare, come accade in Toscana, una scuola con 1700 alunni. Mi verrebbe da dire che si tratta di due mestieri diversi. Decisione osteggiata non solo dagli stessi istituti, c'è l'esempio di due licei fiorentini che dicono un no deciso, ma anche dalla regione che ha annunciato ricorso alla Corte Costituzionale. Vorrei ricordare per inciso che una ventina di anni fa circa sono nati gli istituti comprensivi accorpando la scuola primaria, la scuola elementare allora, con la scuola media e non è che siano successi dei disastri in conseguenza. Certamente gli abbinamenti devono essere fatti in maniera oculata, per esempio abbinare due licei può avere un suo significato. Molto più complesso sarebbe l'abbinamento tra un professionale e un liceo. Certamente le scuole con un numero maggiore di alunni sono anche più difficili da governare, ma questo non dipende solamente dalla figura del dirigente o del DSGA, che poi sarebbe il dirigente dei servizi amministrativi che accompagna sempre il dirigente scolastico. Dipende in generale anche dal fatto che le scuole sono tutt'oggi governate, hanno un tipo di governance che risale al 1974, cioè ai decreti delegati. Un'altra era geologica. È chiaro che bisognerebbe riformare anzitutto la governance delle scuole, rendendo gli organi collegiali più snelli, più efficienti e questo sicuramente sarebbe il primo passo da fare.